Il lavoro spesso ci presenta sfide, riunioni con il top management, incarichi importanti. Come gestire l'ansia? Come hai imparato a gestirle negli anni? Giustamente, quando si ha a che fare con delle attività importanti, ci sono due cose da gestire, sia gli altri che noi stessi. C'è un modo di dire che quando hai un posto al sole, quando sei esposto al sole, quindi quando sei in un punto estremamente visibile, per posizione o per progetto specifico, per qualunque motivo, quello che stai facendo ha un'alta visibilità, perché magari è un progetto strategico molto importante in quel momento, automaticamente sei anche soggetto a bruciarti, quindi sono esposto al sole ma posso bruciarmi. E ci sono due cose che bisogna gestire, gli altri e noi stessi. Parlo di gestire gli altri perché ovviamente più stiamo facendo riunioni, più interaggiamo con management o persone, profili apicali, che possono essere gerarchicamente o tecnicamente, magari persone che anche se non hanno gerarchicamente una posizione particolarmente elevata, ma sono considerate il top nella loro categoria, per cui hanno un'autorevolezza e non solo un'autorità importanti, e quindi dobbiamo stare attenti a dare una buona impressione, a non bruciarci. E questo ovviamente richiede tutta quella parte di stakeholders management, la parte relativa alla comunicazione e tutto quello che è il lavoro di preparazione, soprattutto a monte. La seconda parte invece da gestire è noi stessi, perché ovviamente più siamo esposti a situazioni nuove per noi o con stakeholders importanti, più necessariamente c'è un discorso di gestione dell'ansia e via dicendo. Allora, tecniche specifiche, magari qualche consiglio, sì. Una delle cose fondamentali, come in tante altre attività, è la respirazione. È il non avere fretta nel parlare. Se ci fate caso, quando siete in presenza di persone che vi incutono timore, paura o altre emozioni forti, si spezza il fiato, il fiato va su, vi sentite molto contratti, e imparare a rimandarlo giù, a visualizzare la respirazione con la pancia, diaframmatica e via dicendo, quello è importante. Quindi imparate a prendere tempo, sia per respirare per esempio, ma anche a non rispondere subito. Se ci sono domande, non sentitevi in dovere di dover risolvere lì in quel momento qualcosa, eventualmente accettate il fatto di dire punto preso, verifico e poi vi faccio sapere. Le persone lo accettano tranquillamente questo come approccio. Se potete, comunque a monte per la gestione dell'ansia e dello stress, del carico, per tantissime cose, tanti aspetti positivi, vi consiglio come sempre di provare ad approcciare anche il mondo della meditazione, della mindfulness, controllo del respiro, qualunque tecnica di gestione del respiro e dell'attenzione vi aiuta. Poi ricordatevi che non siete soli tecnicamente, no? Cioè voi non dovete arrivare alle riunioni importanti con le cose che accadono nella riunione. Il più possibile preparateli prima, assicuratevi che le cose accadano prima, che gli allineamenti, le condivisioni, i pre-reads e tutto quanto ci siano a monte. E questo vi permette di avere davanti un minor numero di sorprese. Proprio perché l'argomento è stato già discusso, proprio perché i pre-reads, quindi i documenti da leggere, sono stati mandati in anticipo giorni prima della riunione, e via dicendo, riducete il numero di sorprese al momento dell'incontro. Poi ragazzi, parliamoci che rettondo, situazioni di ansia ci saranno sempre e comunque. Ovviamente più siete nel contesto, più avete possibilità di parlare e conoscere le persone, meno ci saranno situazioni di ansia. Ci possono essere situazioni di stress, di difficoltà, perché io posso avere un ottimo rapporto con colleghi, manager e via dicendo, però è chiaro che quando si presenta la situazione difficile, è difficile, punto. Cioè non è che il fatto che ci conosciamo e ci rispettiamo renderà meno complicata il momento di business a livello di decisione, di problematiche che si affrontano e via dicendo. Per cui vi consiglio di imparare molto dalle riunioni a cui partecipate, parlare anche magari con delle persone con un po' più di esperienza che hanno affrontato situazioni simili, e per esempio, prima siete consapevoli dello stile di comunicazione dei vostri interlocutori, prima vi togliete questa parte del problema davanti. E poi ricordatevi, datevi tempo per rispondere, per respirare, per non abbiate fretta di parlare, non mangiatevi le parole, tenete dell'acqua vicino per bere, ovvero prendere 5 secondi di pausa. Alla fine si è tutti più o meno in diverse posizioni, ma si è tutti nella stessa barca, persone che stanno facendo business, che stanno cercando di risolvere qualcosa. Poi sì, ci sono dei personaggi, soprattutto in certe posizioni epicali, che magari hanno anche il, si costruiscono anche il personaggio attorno, no? Più o meno aggressivo, più o meno assertivo nella comunicazione, però quello fa parte del gioco. Ricordatevi che, a meno che non stiate proprio gestendo qualcosa di diverso, ma non muore nessuno, cioè in una riunione non muore nessuno, ok? Ci possono essere problemi di business, ma sono problemi di business, per cui state tranquilli che non tutto deve essere risolto nei 30-45 minuti o nell'ora della riunione, si può continuare anche dopo. Poi Gianluca molto viene con l'esperienza necessariamente, però, appunto, tranquilli, prendetevi il tempo e respirate. Appena iniziate a tagliare il respiro, quello è un indice che... Fermo, un attimo, ho fatto la domanda, un attimo, controllo, mi dia un attimo di tempo per capire questo punto, oppure ne prendo nota, vi darò le informazioni offline per rispondere in maniera più compiuta. Ok, spero siano utili come indicazioni. Ok, spero siano utili come indicazioni.